Kim Kardashian, 6 modi in cui ha cambiato il mondo Kim Kardashian ha da poco compiuto 37 anni e aggiunge con successo la candelina a una vita accostellata di successi e traguardi raggiunti. Auguri Kim Kardashian. Tanti auguri Kim Kardashian. La regina dei reality ha compiuto 37 anni e tutto il mondo si è prodigato per farle gli auguri. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Selfie e bellezza. . I selfie sono sempre esistiti, sin da quanto si chiamavano autoscatti, ma solo negli ultimi anni è scoppiata la moda di fotografarsi sempre e comunque. . E indovinate di chi è il merito? Ma di Kim Kardashian ovviamente, che ha portato il selfie a un altro livello, facendolo diventare mainstream, è assolutamente indispensabile se si vuole essere considerati coole alla moda. . La moglie di Kanye West ha addirittura pubblicato un libro dedicato al fenomeno, Selfish, che raccoglie decine dei suoi scatti più discussi. . Cosaltro ha contribuito a cambiare? Si fa presto a dirlo, i canoni estetici su cui Hollywood e lo star system si sono basati per anni. . Se prima andavano di moda le ragazze magre e senza un filo di grasso, con l'avvento della giononica Kim sono state in molte ad apprezzare le proprie curve e a smetterla con le assurde diete che le avrebbero dovute far diventare più simili alle magrissime modelle, senza successo ovviamente. . Passiamo ora al lato più serio, Kim Kardashian ha aiutato chi ha problemi di fertilità ad affrontare con meno angoscia questo problema. . Se prima l'argomento era uno tra i più scottanti a livello personale per la vita di una coppia, dopo che Kim ha messo a nudo la sua privacy e parlato della sua difficoltà ad avere figli, molte persone non si sono sentite più sole. . . Kim Kardashian ha dimostrato che i difetti fisici in una donna sono più che normali. . . . . . . . . .